Il punto di vista è un punto di vista completamente differente. Il punto di vista è un punto di vista molto differente da quello che è il momento di lavoro. Perché io penso di un'altra persona. Quali sono le nostre menti digitali che ti servono? Ora dovremmo poterlo. Non so che quando mi ho parlato di fare un'attività, magari pensavo su un'attività, ma non è così. Il soggetto è insopratterico, e comunque ma non vedo. Quando la visione significa io non ho nel mio corpo di tutto quello che mi serve. Sì è il rispetto, poi è il rispetto, ma anche se il soggetto umano non farò questa visione. Il rispetto è sparato per una preghiera in considerazione. dobbiamo considerare la nostra alimentazione. Dobbiamo considerare oggi. Sì, una preghiera in considerazione. Sì, ma se vi è molto molto più importante. Sì, quanto dovete chitarlo i dati in 4? Sì, qualche preghiera in 4? Anche per 2? Ora, 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 ora. Siamo a cura. Adesso ci siamo. E' finita quella della preparazione. E' finita, ma non è finita. Prima perché avete il trombuscolo che porterete il comune a casa e vi aiuterà nella passata vita. Ma non è un'unica cosa che volete fare. Stato dicendo una posizione. Si, 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 si. Si, 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 si. Abbraccio la popolazione. E' finita la popolazione. Si. E' finita la popolazione. E' finita la popolazione. E quindi qui prendono la popolazione. E' finita la popolazione. E' finita la popolazione. Di che cosa c'è? Una cena al cambio. No. Ma è... Ma è giuno il cambio. E' giusto? E' giusto il cambio. No, ma... Io non ho fatto un cambio. Io non ho fatto un cambio. Io non ho detto che dovrei fare un cambio. E poi tutti gli ho detto guardate che non è un cambio. L'ho mandato solo fino a quel tempo. E infatti ce l'ho fatto un corso quella popolazione. Ma, non pensare che questo è giusto. ...diccio, senti via, i bibigioni, un quartetto promozionale passato. E' gratuito! Ho solo detto, ma dov'è possibile un'attività di un'attività? Ma ci vedi? Vedi, mi abbraccia, va. ...diccio, senti via. Grazie, Maria. Concludo solo con la parola. La distanza trascrittore degli attività di chiamazione. Abbiamo detto che voglio metterci inizione. Quindi, iniziate a riferire. Grazie. ... 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